Ragazzi, prima di iniziare col video vedo proprio e devo farvi un'introduzione Perché la Apple ha presentato il nuovo Mac Pro L'altro giorno c'è stato il WWDC, se non sbaglio si chiama, non vorrei dire una cagata, ma se non sbaglio si chiama così Dove la Apple presenta tutte le varie novità a livello software e a livello hardware anche Quindi ha presentato il nuovo iOS 13 per quanto riguarda l'iPhone Ha presentato un nuovo monitor, ha presentato un nuovo Mac Pro E ha presentato altre cose a livello software, anche l'iPadOS Comunque un bel po' di novità succulente Ovviamente non si è parlato di nuovi iPhone perché gli iPhone poi li presenteranno tipo a settembre, una cosa del genere Comunque sia, oggi sono qui in questo video perché voglio farvi vedere questo nuovo Mac Pro Perché ragazzi siamo qui sul sito dell'Apple e dovete scrivermi in 10 secondi Proprio vi do 10 secondi per scrivermi a cosa assomiglia questo Mac Pro Da questo momento Non saranno passati mai 10 secondi ma direi che è stato sufficiente il tempo per scrivere un commento Perché ragazzi questo Mac Pro sembra una fottuta grattugia Ahahahah Perché poi ho detto la grattugia più costosa del mondo Perché Comunque questo ragazzi Questo qui è il Mac Pro ragazzi Visto dal frontale è palesemente una grattugia Cioè voi potete grattarvi le spalle nel caso abbiate prurito durante una giornata Questo dovrebbe essere il sopra con una comoda maniglia che si gira e Boh non lo so Ah scopre forse le varie componenti Bello questo Mac Pro mamma mia molto bello molto bello Come è anche bello ragazzi il suo prezzo Perché da come possiamo vedere il top di gamma ha 28 core, 56 thread e arriva a 4,4 giga A 64 MB di cache oppure un semplicissimo 8 core, 12 core, 16, 24, 28 Vi dico solo che la versione più boostata di questo computer Quindi la versione potenziata tutta a palla Forse con anche in abbinato il monitor non sono sicuro di questo Costa, preparatevi perché qui la notizia è dura 35.000 dollari Cioè ragazzi questo computer costa 35.000 dollari In abbinato forse a questo monitor in 6K tutto fighissimo Che costa solo il monitor 6.000 dollari Open this page using Safari on your iPhone or iPad Ragazzi all'epoca c'era anche questo Mac Pro Che veniva scambiato per tipo un po' sacenere Perché era palesemente un po' sacenere Comunque dove cazzo è il Mac Pro nuovo? Mac? Sto funzionando sta Allora questa qui è la nostra grattugia Bellissima ragazzi Mamma mia qui possiamo proprio grattugiarci Tutte le verdure e tutto il formaggio che vogliamo Ovviamente Qui abbiamo anche la vaschetta Per poi estrarre appunto i nostri ortaggi grattugiati Però abbiamo anche una realtà virtuale Questo è il nostro Ah guardiamolo da vicino Ah guardate qui Qui ci sono proprio i fori Per consentire un'ottima Le lame anzi Per consentire un'ottima Triturazione Dei Dei nostri ortaggi Vediamolo da dietro Vediamolo da dietro Ok Qui abbiamo anche tutte le varie cose E volendo nel retro possiamo grattugiare altre cose Perché no tipo in questa parte qui possiamo grattugiare altre cose Molto bene Grandioso Bene ragazzi quindi vi ho spiegato il perché di questo video Ora andiamo a guardare alcune delle meme più divertenti che ho trovato in rete Quest'utente condivide subito dopo la conferenza stampa praticamente Una foto Let me introduce the mac The mac and cheese Ragazzi Cioè visto così dal frontale è veramente Guarda Uguale una grattugia Poi il mac and cheese è anche tipo un tipo di pasta se non sbaglio Questo è il mac and cheese Mac and cheese ragazzi È lui È proprio lui Ragazzi la stessa cosa che ho detto io prima Overpriced cheese gratter Ovvero una grattugia Per il formaggio Un po' sovrapprezzata Cioè ragazzi Se noi prendessimo una grattugia grossa E ci ficcassimo dentro i componenti di un computer Abbiamo fatto un Mac Pro Fantastica questa cosa Fantastica Mamma mia ragazzi che Quelli dell'Apple proprio il design ce l'hanno nel sangue Se lo stanno fumando il design quelli dell'Apple Probabilmente il povero Steve Jobs si sta rivoltando nella tomba Ma continuiamo con le meme Introducing Apple Gratter Come cazzo si dice gratter in inglese? Grater Grater Ah ok Introducing Apple Grater The next generation in cheese grating technology Ragazzi è una grattugia super tecnologica E' super fighissima Oddio Mi è venuta in idea malata ragazzi Voglio stampare una mela Prendere una grattugia E appiccicarla sulla grattugia Sono malato ma lo vorrei troppo fare E appiccicarla So We have created a new high performance map for our professional users It's designed and engineered to enable a wide range of uses And virtually unlimited possibilities for customization Questo sopra era il vecchio Mac Pro e questo sotto è quello nuovo Quello sopra sembrava come detto prima secchio dell'immondizia, un po' sacenere Quello sotto un cheese grater Introducing the new Mac Pro Cheese Ragazzi tra l'altro il Mac nel mezzo, dietro al Mac c'è il formaggio da grattugiare E davanti al Mac il formaggio Ho appena grattugiato ma ho letto sotto Cheese not provided Il formaggio non è incluso Oddio Make Mac Pro great again It's a Mac and Cheese grater, ovviamente The revolutionary new Mac Pro looks like a cheese grater Because it's going to cost you a ton of cheddar to buy it Il nuovo rivoluzionario Mac Pro sembra una grattugia per il formaggio Per comprarlo, ti servirà tipo una tonnellata di cheddar per comprarlo All'Apple riunione per creare appunto il design del nuovo Mac Pro Avete qualcuno un'idea per il nuovo design del Mac? Qualcuno probabilmente in ufficio si stava grattugiando il formaggio Ha alzato la mano con tanto di grattugia e hanno fatto quel design lì Palesemente è andata così la riunione dei dipendenti Apple Ma non solo grattugia per il formaggio ma anche quella per togliere quella roba lì Che non so come si chiama per togliere i calli nei piedi Che schifo Che schifo ragazzi Ragazzi questa è la foto che c'è sul sito dell'Apple Il Mac con lo schermo è qui rappresentato da un iPad E il Mac verrà proprio accanto E quello scrive Ecco qua il mio nuovo Mac Pro Ragazzi vi giuro che prima di leggere questa meme Mi sono andato a cercare che cazzo è l'Eid Mubarak Ed è praticamente una festività nella cultura islamica Comunque è una cosa che si festeggia no? Quindi il figlio chiede il regalo appunto Mamma vorrei un nuovo Mac Pro per la festa E la mamma risponde Noi ce l'abbiamo un Mac Pro a casa E si presenta con la grattugia Oh mio dio ragazzi è pazzesca questa cosa È veramente pazzesca Ancora ancora accettavo il design del vecchio Mac Pro Che era comunque bello, cilindrico, figo da vedere Ma questo Che sembra una grattugia Costa 35.000 dollari La versione più bustata Solo il monitor ne costa 6.000 Io sono un fan dei prodotti Apple Ma non capisco ultimamente questa filosofia Di fare prodotti dal design del cazzo Chissà cosa gira nelle menti dei tizi della Apple Non lo so ragazzi Ma non investighiamo Comunque io spero che come sempre il video vi sia piaciuto Questo era un video divertente Per quanto riguarda il nuovo Mac Pro Forse sono... non so che titolo darà questo video Non ho idea Mi è venuto di farlo e l'ho fatto Ancora non so che titolo dare Però io spero che come sempre vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo Mac Pro Great Da Giambidec è tutto E ciao ciao